Il futuro della monarchia britannica è avvolto da un velo di incertezza in seguito alle recenti indiscrezioni riguardanti la salute del principe Carlo. Lo scorso gennaio, il monarca è stato ricoverato e sottoposto a un intervento alla prostata, seguito dalla sconcertante rivelazione di una diagnosi di cancro. Da allora, il suo coinvolgimento negli impegni pubblici è stato drasticamente ridotto, con la regina Camilla e il principe William che hanno assunto gran parte delle responsabilità istituzionali. Recentemente, diversi siti statunitensi hanno alimentato le voci riguardanti un presunto peggioramento della salute del principe Carlo. Testate come Page Six, il Daily Beast e il New York Post hanno riportato dettagli su presunti aggiornamenti ai piani del suo funerale, noto come l'operazione Menai Bridge. TMZ ha addirittura dichiarato che la situazione sta precipitando, mentre Sky News Australia ha descritto le condizioni del monarca come terribili, con preparativi in corso per il suo funerale. Questa ondata di speculazioni ha scatenato reazioni intense e preoccupate da parte del pubblico, con molti che si aggrappano alla speranza per il miglioramento della situazione. Tuttavia, l'incertezza persiste, mentre il mondo osserva, con ansia, gli sviluppi riguardanti la salute del principe Carlo e le implicazioni per il futuro della monarchia britannica.